confusione però tra aggredito e aggressore la speranza che l'Europa sa per in questo giocare un ruolo determinante un uomo che ci facciamo hai visto a me, ho visto a me, non vuole venire da me, vero? eh, stavo facendo le unghiette andiamo a mangiare amore? Sì, andiamo in bagno a mangiare, dove vuoi andare? dove vuoi andare amore? Dove? In bagno prima? dove vuoi andare tesoro? Dove? in bagno prima? Eh, dove vuoi andare tesorina? hop là, in bagno, in bagno, in bagno, in bagno, dobbiamo andare in bagno prima eh, prima facciamo la pipì, andiamo a fare la pipì, sì sì amore, cosa vuoi fare prima? La pipina? Eh, sì, dopo ho giocato si fa la pipì così ora mamma poi mi dà da mangiare eccomi, vado a fare la pipì come mi ha visto, era che giocava per la mia, sono arrivata in questo momento e finora ero di là guarda quanta pipì hai fatto pomeriggio il Presidente del Consiglio ha fatto gli auguri agli italiani insieme che è brava, pulita questa pipolina brava, sì l'hai fatta, sì sì, c'è tanta pipì, lo sentite sì sì, brava, è pulita amore andiamo? bella, andiamo a mangiare amore andiamo? oppla oppla, oppla, andiamo a mangiare amore o vuoi ancora giocare, vuoi ancora giocare un pochino? sì vuoi ancora giocare un pochino, sì e facciamoci queste unghiette, sì facciamocene queste unghiette stasera guarda che forte c'è stasera questo giochino bello questo giochino bello sì ecco 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 un po' così unghiette la pipì non l'abbiamo fatta ora possiamo andare a mangiare ehi un grande amore a tutti gli italiani per un governo di orgoglio e di ottimismo il governo farà la sua parte in quest'anno ma vorrei che ci credesse con noi che ci credesse con me per la possibilità che si deve lavorare giocare è felice è felice andiamo a mangiare eh andiamo a mangiare sì andiamo a mangiare dai vieni 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 potenti cazziclessimi andiamo a mangiare un pochino un grande pontefice eh che mancherà ma sì fatelo è un altro voto come l'ombietta linea a voi in ucraina 4 morte 50 feriti nei raid russi di Capodanno nuova raffica di attacchi missilistici su chiede e su altre città del paese andiamo in diretta all'inviato andiamo a mangiare andiamo a mangiare dopo le ore mi ha giocato bella una due no ti sto prendendo male hai ragione ecco qua ecco qua la nostra principessa ora mangiamo vero? mangiamo Cetti? si e